scotti 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 salve ragazzi questo non sarà un video ironico più o meno sarà un video critica contro chi ci fa censurare i video contro quelle brutte persone che ci dicono che accella il video io sono ovviamente basito a questa cosa non mi aspettavo che potessi incidere chiaramente sono video ironici oppure lo scriviamo sotto il video stesso video ironico all'inizio del video si scherza oppure chi l'ha fatto non intende davvero quelle cose non le crede davvero ragazzi sono molto deluso da queste persone che sono anche nostre fan e non capiscono le battute sulle donne tipo il video del nostro collaboratore non è una cosa contro le donne e per dire che le donne hanno troppo pochi diritti dovrebbero averli più ma ci sono alcune persone in particolare non faccio nomi ma ci sono lamentate oppure per delle gif lamentate quella gag che era puramente satira ovviamente che la fanno i politici la satira oppure i comici va tutto bene come lo facciamo noi no eh non ci piace così adesso comunque vi saluto e voglio dire che questo video non mi riferivo a nessuno in particolare proprio nessuno in particolare e io ho detto questo vi saluto arrivederci grazie 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 grazie